Ci troviamo in Corso Mazzini, quartier Libertà, con una signora che si veste da portavoce per quanto riguarda i residenti di quartier Libertà per una problematica abbastanza rilevante che riguarda l'AMTAB, parliamone. Sì, è una cosa incredibile. Un'ora stamattina Palese ha saltato la corsa e ora siamo qui da un'ora e non viene la corsa. Una bambina piccolina di pochi mesi deve stare a questo freddo. Fa sempre ritardo. Il pullman da Palese, da Santo Spirito, qua, salta sempre le corse. Signora, di quale linea parliamo? Dalla numero uno. Eh, questo è tutto. Il disagio che ci troviamo è una cosa incredibile. Punto e basta. Quindi se dovesse fare una richiesta anche per migliorare il servizio? Chiederei di venire in orario lì, pullman. Questo chiederei solo di venire in orario.